L'inverno opprime la galassia del risparmio, bollette astronomiche, consumi senza comfort, caldaie senza futuro. Eppure c'è una speranza, anzi una certezza. La certezza di risparmiare con caldaie di nuova generazione, di un'installazione super professionale, di ridurre i consumi e le bollette, di pagare in 36 mesi a tasso zero e di un aiuto a recuperare parte del tuo investimento. Unisciti a noi, vieni da FIDRA. FIDRA è fabbricazioni idrauliche, professionisti del riscaldamento. E che FIDRA sia con tutti voi.